eccoci ciao fede ciao come va bene meno male che non c'è il video perché abbiamo due felpe inguardabili cioè siamo proprio conciati male in questo momento immaginatevi il peggio ti manca la tazza col tè ce l'ho ce l'ho ce l'hai sì sì siamo veramente felposi però vabbè dai ci sta in inverno esatto poi dobbiamo c'è il caro bollette bisogna tenere bassi col fumo che esce dalla bocca in casa sì un pochino sì beh io guarda se ci guarda c'ho la felpa e il pile anche doppio lo vedo lo vedo bellissimo puoi fare l'influencer un'altra vita sì o prender l'influencer perché c'ho freddo va bene siamo ancora rimasto benvenuti e benvenute questo è che in creativity e cosa ridi il podcast sulla creatività per eccellenza diciamolo sì io comincerei anche a parlare di creatività e umorismo visto che ma ma sì giochi di parole esatto a te piacciono i giochi di parole l'altro giorno ti ho scritto un messaggio sì dicendoti sto per comprare il dominio che poi venderò a uno tra vodafone virgin team era un po preso e non ho dato il giusto entusiasmo alla tua idea perché secondo me era figa allora volete sapere che dominio voglio prendere da rivendere ovviamente lalalan.it è figo lalalan.it che entri e ci sono le offerte bello è secondo me è figo secondo me è figo so che adesso state impazzendo volete comprarlo l'ho già registrato e scrivetemi e facciamo una trattativa ci sta ci sta ma cosa facciamo qui oggi oggi facciamo link intervistiamo un sacco di persone però ogni tanto facciamo questo link e questo link è un momento in cui noi ci scambiamo notizie idee link cose che abbiamo letto visto e quindi è un momento veramente di scambio la regola è che l'altra persona sta al buio per cui edo non sa cosa gli racconterò e viceversa quindi questa diciamo è la regola ma capirete se la cosa mi interessa o no tra le righe di solito è no oppure 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 di solito è tipo mamma mia che figata poi whatsapp a nick taglialo ok ciao nick buongiorno buonasera buonasera buongiorno buongiorno ciao nick comunque altra cosa importante questo non è solo un podcast ma è anche una community sì tra come sapete tra il nostro canale telegram tra la nostra piattaforma su circle quel posto bellissimo dove dialoghiamo lo chiamiamo il terzo tempo qualcuno l'ha chiamato in un altro modo più figo com'è che era era un extra time una cosa del genere no sì vabbè sono dei luoghi dove dopo aver ascoltato la puntata succedono cose no cioè va avanti il discorso non tra di noi ma una cosa diffusa tra tante altre persone no questo è il bello no molto bene io mi sono dato questo compito di gestire una rubrica all'interno di link dove vado a pescare un po a vedere un po cosa succede in questi nostri canali per portare un po a tutti no che ci ascoltano dei temi vai che hanno funzionato c'ho anche le statistiche su circle mi dice a questo post l'hanno letto in tanti l'hanno commentato in tanti quindi poco sbattimento esatto vai quindi sigla c'è no certo nick grazie allora cosa è successo vado velocissimo si parla di tantissimi temi li butto un po a caso alcuni hanno chiesto podcast che strumentazione usate non abbiamo risposto solo noi ma tanti un sacco di gente che fa podcast ci segue all'interno della della community lo dico per tutti poi magari mettiamo la lista della strumentazione che è l'ultimo dei problemi la strumentazione ma lo diciamo noi usiamo questi bellissimi road procaster che sono direzionali quindi se c'è casino intorno non lo prendono un bel zoom h6 come recorder e poi cosa facciamo il trick qual è quando abbiamo un ospite gli chiediamo di registrare una nota vocale con il telefono usandolo come microfono quindi vicino la bocca è la soluzione più ottimale di qualità chiuso capitolo tecnica se qualcuno interesse seconda cosa link scorso avevamo lanciato un post di giorgio che diceva ragazzi io gestisco una una discoteca mikonos ma voglio trovare nuove idee per raccontare questo mondo dell'intrattenimento serale notturno in maniera diversa qualcuno mi aiuta ed è successo già scritto dicendo ragazzi mi sono arrivate tre quattro chiamate appuntamenti dalla community per parlare di questo tema quindi un bel posto dove o cercare aiuto ho bisogno di un aiuto qualcuno mi dà una mano e molti rispondono quindi molto reattivi bravi e brave altra cosa qualcuno inizia a lanciare dei microcorsi solo per la community è iniziato valentina valentina è la nostra tutor all'interno del lab quella che tiene insieme tutto grazie vale intanto grazie e noi per fare gli esercizi durante il lab tutti insieme siamo tutte persone da posti diversi usiamo miro 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 chi lo sa non si è mai capito sta cosa direi miro.com miro.com con la piattaforma molto carina dove hai una board una lavagna dove puoi mettere i post it tutto in tempo reale molto figo ma le potenzialità sono infinite e non tutti le conoscono quindi la vale ha detto oh ragazzi ma se faccio un mini corso gratuito per chi vuole per la community chi ci sta 12 posti sold out dopo due minuti quindi probabilmente doveva fare due due sessioni di tutor la cosa interessante non solo che sta creando valore ma diceva lo faccio perché vorrei avere dei feedback per poi eventualmente migliorare questa cosa quindi questo era un circolo virtuoso interessante e lì secondo me c'è un link che credo tu voglia fare e davide ha rilanciato dicendo ma aspetta un attimo ma io posso farvi un corso su come dare feedback che è una cosa interessante sì anche anche abbastanza inedito no perché è una cosa che a cui non pensi mai è perché uno dice sì mi è piaciuto non mi è piaciuto invece ecco dare il feedback in modo giusto chiederlo ma darlo nel modo giusto può essere costruttivo insomma per chi sta sviluppando qualcosa bel po di robe stanno succedendo poi c'è una cena a vicenza il 14 dicembre sì non so perché ma qualcuno ha messo nel post la foto di un gatto cosa significa non capisco il menù è fisso o you can eat gatto no poverino figurati però sì diciamo facciamo una facciamo una pizza quindi diciamo un po' il nord est si muove e quindi anch'io mi muovo verso verso vicenza quindi molto bello molto figo molto poi se sotto natale esatto bollettino fatto insomma se avete voglia venite unitevi a noi esatto che succedono cose dentro la community guardate il link by my coffee che trovate in descrizione come la pubblicità delle dei medicinali siamo letteralmente in centinaia per cui diciamo chiuderei questa sezione con un d'accordo d'accordo un po' ci caratterizza va bene quindi nick visto che questa volta hai pochissimo tempo per montare questo questo podcast ti direi ce l'hai una musichetta per dire insomma per far arrivare qualcosa di tensivo una roba tipo perché caro edo fate questa doverosa premessa sulla community questa è una di quelle puntate di link hai presente dove federico si sveglia ce l'ha con qualcuno oppure ah no incazzato ma no non sono incazzato no quello ormai è il vecchio federico con gli ormai io so che sono zen io era interessante mi piaceva essere quello sì no 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 ma sono zen zen iperattivo per cui non sono assolutamente però diciamo tutto questo mio ragionamento che vorrei fare oggi con te è abbastanza profondo se me lo concedi e se me lo concedono le persone che ci ascoltano mamma mia aspetta che mi metto in posizione allora sì guarda adesso mi tolgo una delle due felpe mi tolgo una delle due felpe per darmi un tono e parto da un dato che mi ha molto molto colpito cioè tu lo sai che io faccio lo sceneggiatore vero ok sì ok un po' lo sappiamo magari persone nuove quando ti lamenti tutti i giorni me ne parli anche esattamente però ho scoperto perché una delle due associazioni della mia categoria che si chiama writers guild italia l'altra è 100 autori di cui faccio parte ha lanciato un sondaggio per questi per questi per gli sceneggiatori e diciamo tra i vari dati che sono venuti fuori uno mi ha colpito molto cioè tu sai quanti sceneggiatori attivi ci sono in italia sparo sì ci sono chiaramente anche io in mezzo censiti perché poi ci sono quelli che vabbè scrivo le cose no no quelli diciamo che professionalmente 100 100 autori no vabbè no 1000 600 600 cioè se ci pensi sono pochissimi tu hai 600 colleghi pochi è vero in confronto agli avvocati commercialisti siete pochissimi cioè no ma c'è su 60 milioni è veramente e tutto questo questo ragionamento che facevo era tipo ok ma mi sembra veramente un dato molto piccolo ho fatto delle ricerche incrociate ed effettivamente è così quelli attivi quindi che lavorano negli ultimi due tre anni allora ho pensato ok io che mi lamento sempre no che scrivere mi fa fatica eccetera eccetera ho pensato però cazzo cioè 600 persone sono veramente poche quando sì sono fortunato e poi però ho pensato no col cazzo non sono fortunato me la sono andata a cercare io sta roba cioè nel senso io ho lasciato tutto quello che avevo il mio lavoro il mio paese tutto quanto perché volevo fare questo mestiere ok e questo mestiere è stato difficile perché chiaramente la competizione l'abbiamo appena capito non era proprio bassissima però qual è il ragionamento finale che ho fatto cioè io non sono il più talentuoso tra questi 600 probabilmente sono anche nelle ultime file del talento se nel dici sono il 521esimo dai dai sei il 320 no lo dico senza fare no quello sarò anche tra i tre non importa però sicuramente ci sono molti 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 perché li conosco personalmente colleghi più bravi di me che ti fa dire questa cosa mi fa dire che se uno vuole con molto molto impegno può raggiungere tutti gli obiettivi che vuole e detto questo io vorrei che questo podcast questa puntata in particolare ma il nostro podcast in generale aiutasse le persone a dire basta scuse non ci sono più scuse non ci sono scuse perché adesso io ti testerò su questa cosa qui cosa può succedere di male se tu lasci il tuo lavoro per andare a cercare quello che voglio fare veramente ok cioè se ce l'ho fatta io ripeto che non sono iper talentuoso e sono entrato in un mondo molto molto piccolo cioè dici che c'è spazio nel tuo campo come in altri campi come in mille altri campi chiaramente però la cosa che mi ha molto colpito è che io sono arrivato qui e quando mi sveglio la mattina sono tendenzialmente felice e sono molto grato di quello che faccio anche come lavoro perché mi permette di fare mille cose diverse ho libertà però me lo sono andato a prendere io ho una soluzione ti dico la mia esperienza guarda arriva da una riflessione che sto facendo durante il lab non voglio fare la promo per forza del lab ma è una cosa che sto sperimentando cioè il lab che cos'è? è un percorso che ti porta a prendere una tua idea una tua intuizione fare un percorso dopo 12 settimane arrivare in fondo a dire non avere il prototipo il prodotto finale ma aver capito se c'è un interesse se c'è un mercato aver fatto veramente tanti percorsi tante analisi tanta fatica no? l'hai tirato anche fuori tu durante una lezione no? cioè quello che voglio dire è che facendo questo lab quindi ritagliandomi del tempo sto facendo una forzatura nel provare a creare qualcosa ma utilizzare uno schema mentale che non è il mio solito e questo è veramente difficile cioè quanto è più semplice continuare a fare il lavoro che hai sempre fatto perché ti trovi a tuo agio sai cosa aspettarti nel bene o nel male no? nella parte bella nella parte brutta però sguazzi in una cosa che sai com'è quanto è difficile dire mi stacco da lì e vado da un'altra parte è veramente complesso anche quando ti dico voglio fare il mio canale youtube nella mia testa sono a mio agio sto bene perché ah sai la tranquillità di dire prima o poi lo farò si sta bene no? è gratis non c'è fatica non devi ritagliarti delle ore in più non hai delusioni no? invece quando poi ti butti in una cosa è dura e quindi capisco il fatto che uno dica vabbè sto dove sto dai alla fine non è così male lo so però guarda di illuminami cosa serve per per fare uno strappo allora serve questo guru dimmi no servono mille cose mille cose allora intanto serve fare un primo piccolo passo che non è che non deve essere per forza quello del tipo mollo tutto anche se secondo me è in certi casi è consigliabile perché alla fine il primo passo certe volte poi ti trascini stanco torni indietro il taglionetto ha un sacco di pregi un sacco anche di di problemi stamattina pensavo no? veramente qual è la cosa peggiore peggiore che può succedere hai mai sentito qualcuno in italia che è morto di fama negli ultimi 50 anni? cioè adesso la sto estremizzando e so che è molto più complesso di così però io vorrei trasmettere questa energia che si può fare cazzo e si può fare e uno dei motivi che ti possono spingere a fare questo l'ho preso da un libro che ho letto ho finito ieri ma non posso rivelarlo perché sto facendo delle cose e quindi dovrò rivelare questa doppia lettura che ho fatto un po' più avanti però vabbè perché lanci lì senza dirci cos'è stai calmo devi stare calmo la sintesi è questa ed è un esercizio che io ho fatto ok? e sono stato fortunato perché le risposte erano quelle che volevo cioè comincia a dare un voto da 1 a 10 alle tue giornate per un mese se stai dall'1 al 4 ok è meglio che cambi le cose dal 5 al 6 ok cose vanno mica male 5 al 7 qual è il problema? sei nella tua comfort zone ogni tanto sei un po' felice ogni tanto però ti rompe le palle a fare quello che fai stai lì ok ma quanti giorni c'hai con l'8, 9 e il 10? certo allora se tu fai questo esercizio per un mese e guardi indietro e poi fai una media ti rendi conto di quanto la tua vita potrebbe essere molto più figa di quella che c'hai sì non può essere una vita da tutti i giorni 10 perché sappiamo che la vita è fatta di alternanza come le stagioni però quanti 8 c'hai quanti 8 hai avuto quante giornate da 8 hai avuto nell'ultimo mese è vero se non ne hai avuto neanche una cioè devi farti una domanda cioè il tempo non torna indietro cioè si può morire fra un quarto d'ora registrando link si può morire cioè potrei inciampare bene o male che c'è zoom che registra così nel caso quando leggerò il testo al funerale per i saluti c'è la slide no c'è la slide io che cado indietro figo figo fermi immagini sai che scusami parentesi una cazzata vai vai io ho un amico che per un periodo della sua vita ogni volta che faceva un viaggio in macchina se era la guida o non era la guida scattava un selfie del momento prima dell'incidente perché voleva essere sicuro di dare ai giornali una foto decente della notizia no vabbè madonna mi scattava però era comico no era comico era tipo ah con la faccia è vivo vero sì 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 ok perfetto questo è importante è più da giocare anche con questi temi chi se ne frega ci sta ci sta prima o poi comunque perché sono così triggerato come direbbero quelli bravi oggi perché tra i mille link che io preparo in maniera veramente come dire ogni weekend mi metto lì e per un paio d'ore mi scorro queste centinaia di newsletter alle quali sono iscritto ok e sono capitato in questo tizio che non si chiama Stefan qualcosa ma non importa però lui ha fatto un elenco di 40 domande che dovresti farti ogni anno e 40 domande che dovresti farti ogni 10 anni e adesso io te ne farò qualcuna e vorrei che le persone a casa fai questi esercizi e lo so che poi mi metto le cuffie no perché a te piacciono queste cose qui capito non lo vuoi ammettere no mi viene l'ansia mi sento a scuola vai 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 per cui Edo diciamo in studio e le persone a casa rispondete a queste domande e dovete tenere in mente questo discorso 1-10 che vi ho fatto prima ok per cui andiamo su ogni anno ah le domande da farsi ogni anno siamo a novembre quindi voglio dire cominciamo a fare un po' di bilanci un pochini vabbè comunque insomma la domanda secca hai mantenuto i buoni propositi dell'anno che ti rifatto 50% ah che non è male sì però perché sono sempre partito da quelli più facili da smazzare no quindi ok e qual è stato il più grande successo del tuo anno il più grande successo di quest'anno che poi non mi becchi neanche in un periodo che sai dici che ho la risposta pronta ottimista perché stai vivendo giorni da 6 e da 7 è un po' forse sì hai capito cioè questo queste domande servono a quello non serve che rispondi adesso ti dico qual è stato il tuo più grande fallimento non devi rispondere no no non ci riesco veramente no no adesso te le faccio di più semplici che sono comunque importanti però cioè voglio dire avete capito il tipo di energia che vorrei oggi portare a tutte le persone che ascoltano aspetta tu ti sei risposto a queste domande dai di lasciare vuoto così con me è tristissimo no no mi sono risposto il più grande successo sì la mia routine quotidiana ok cioè quella mi ha cambiato totalmente la vita l'abbiamo parlato mille volte ma se volete possiamo fare anche una puntata dedicata perché ogni volta cambia ogni volta si evolve ogni volta cerco di migliorarmi la svolta vera è l'ho sempre fatta con l'ansia oddio se non faccio questo mollo tutto se non la rispetto devo ricominciare da capo senza ansia è un gioco meraviglioso ok quindi fallimento non aver detto no a tanti progetti ah e questo è proprio una roba che per l'anno prossimo c'ho in testa proprio cioè devo dire no devo dire no devo dire no io sai il fallimento che continuo a ripetere è quello di io lo so prova sono il tuo prova a dirlo poi rispondo che è venuto in mente non aver aperto il canale youtube sì quello ce l'ho sempre arriverò arriverò a 50 anni con eh sono pronto sì ma è anche è anche continuare a sai trovarsi in quella situazione in cui dice beh c'è questo lavoro da fare faccio prima a farlo io che a trovare il modo di delegarlo anche io anche io essere sempre nella ruota del criceto non è nella ruota del criceto l'ingranaggio essere sempre l'ingranaggio che poi è collegato alla crisi di mezza età la sto vivendo adesso cioè sto arrivando a 40 anni che inizio a farmi queste domande qua tu che sei un po' nel futuro rispetto a me dimmi come la vedi cioè del ma adesso sono molto bravo sono specializzato in una cosa che ci ho messo decenni no lascio stare l'ego no però ho raggiunto magari l'eccellenza in quella cosa molto specifica che è il mio no sì però tra quanto avrò un segnale dal mondo che mi dice ah sì eri bravo adesso però ormai ci sono quelli dietro più bravi di te cioè ci sarà io ho paura di arrivare a quel giorno lì che a me capitava un po' di anni fa che vedevo quelli lì più grandi che magari erano forti ai tempi ma li vedevo e dicevo che tenerezza nel senso che sì erano forti negli anni 90 però spostatevi adesso che devo passare un po' sono forti gli anni 90 ma non stanno capendo come girano le cose ho una paura terribile di ritrovarmi in quella situazione lì e scoprirlo in maniera brutta che magari qualcuno mi dice ma guarda sì funzionare eri bravo a fare i video sì però adesso non stai capendo come gira il mondo oh è lì che cazzo ho due risposte ho due risposte cambio la prima sulla mia esperienza personale a me sta succedendo il contrario nel senso che dai stai fiorendo sei tipo American Beauty che fai le flessioni nel box cioè mi sento più bravo più giovane più più forte eccetera però la risposta istintiva secondo me è questa che essendo tu una persona unica con un punto di vista unico sul mondo devi coltivare quello perché quello sarà insostituibile e cosa significa? significa che se tu apri quel cazzo di canale YouTube e dai la tua cazzo di visione del mondo e sono serio quel canale non te lo toglierà nessuno mentre se tu devi continuare a fare il video per quel cliente il copy per questo e la storia per quello quello sì sei sostituibile sì ecco ma sai il blocco qual è che hanno in tanti e in tante che ci stanno ascoltando secondo me adesso puoi traslatelo nel vostro è il blocco del finché non lo faccio non scopro che va male non ricevo critiche cioè non sono non critiche è il rischio la paura del fallimento perché finché non fai una cosa hai come dire la moneta può andare su entrambe le facce cioè metti in conto che può andare male ma può andare bene quando lo fai e magari quel progetto quella quell'iniziativa e vedi che non ingrana non funziona lo so però qui ti crea un blocco e dire ma aspetta sto nel mio che a meno evito di avere quella apprendista nonno edo lascia spazio diciamo al nonno fede tu sei ringiovanito io sono invecchiato durante questo podcast è incredibile è un po' sì un po' sì però voglio dire il punto è questo due anni mi sono peggiorato dovevo migliorare no il punto è questo cioè avendo io sbattuto tantissime volte il culo per terra ma in maniera pesante ma pesante pesante ti posso dire quindi vi prego per chi non ha ancora sbattuto e magari spero spero che non sbattiate male succederà portiamoli sfiga no magari non succederà però non succede niente cioè è tutta roba che abbiamo dentro dentro la nostra testa e non succede niente è un problema è un succede niente io non ho paura di morire di fame è il non succede niente il problema ma se non succede niente non succede niente è che quella cosa che provi è ma no non è niente di che capito ma puoi tornare indietro puoi fare qualsiasi cosa c'è la vita può cambiare in 30 secondi la teoria la so la teoria la so ok facendolo ti cambi strada domande domande basta 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 stai buttando un velo di tristezza in questa puntata in questa puntata che la faccio da spalla era proprio dedicata cioè alla fine di questo podcast il 90% degli ascoltatori lascerà il proprio cazzo di lavoro e si metterà finalmente ad essere felice cazzo sai che scusami noi dobbiamo fare un midroll sì e mi sa che la mia situazione è un bell'assist per lanciare il midroll della puntata o no ci sto ci sto vai vai tu avete ascoltato la puntata su serenis.it la scorsa una delle ultime puntate esattamente molto bella molto bella ma che cos'è serenis serenis è un sito di psicoterapia e supporto psicologico online che funziona in maniera molto semplice molto molto efficace cosa devi fare vai online rispondi a un questionario fai un colloquio gratuito e poi ti mecciano con la psicoterapeuta o lo psicoterapeuta più adatto alle tue esigenze di benessere mentale che hai in quel momento in base al tema che vuoi affrontare cioè che può essere uno che non è nella tua città chiaro perché è online se avete ascoltato la puntata avete sentito la mia esperienza personale con la piattaforma e sono no contento più che contento dei risultati per cui questo fidatevi perché veramente mi sta migliorando la vita questa cosa posso dire una cosa? certo perché tra l'altro puoi affrontare temi che uno dice non andare dallo psicoterapeuta perché ho un problema che mi porta avanti grave dall'infanzia no magari sei nella situazione in cui mi trovo io che sto scoprendo in questo momento Federico mi sta facendo aprire e dici cazzo c'ho sto blocco qua come faccio? perfetto vai da un amico? vai da questo? magari vai da un professionista quindi trattano anche questo tipo di temi non è che deve avere una cosa grave esattamente anche un blocco professionale personale cioè andate lì e dite io ho ascoltato Hacking Creativity e sono un po' in crisi perché vorrei lasciare il lavoro ma cosa devo fare? quindi grazie alla convenzione che Serenis ha fatto con Hacking Creativity potete prenotare un colloquio gratuito e le prime sedute sono a un prezzo tipo convenzionato per cui se mettete il codice Hacking Creativity 42 quando fate il checkout e l'attivate entro il 31 dicembre avete questa convenzione comunque c'è tutto scritto nella descrizione ed è facile basta cliccare serenis.it fatelo parola di fede detto questo tornerei alla puntata stavamo facendo le domande da porsi ogni anno ok le salterei perché hai già difficoltà e ti farei quelle da porsi ogni dieci anni che sono leggermente più difficili sei pronto? più difficili? cuffia? dieci anni avrò cinquant'anni quasi no da porsi ogni dieci anni quindi potresti portare adesso guardandoti indietro hai detto che hai quasi quarant'anni posso andare indietro? ah ok vai c'ho le cuffie allora eh l'ascoltatore cosa faresti se avessi sei mesi di vita? ah vabbè lì vado vado in montagna inizio a vivere una baita in mezzo alla natura perché non lo fai adesso? eh eh fede figa come faccio? ma come come fai? eh c'è l'asilo c'ho una compagna che lavora a Milano eh non è che posso andare sì da solo posso andare domani però sai che c'è Maometto no? che si puoi portare la montagna no però ecco me l'hai tirato fuori non ci stavo più pensando però me l'ho insegnato stiamo pensando di fare un mese vedi in montagna così vedi? che l'abbiamo fatto anni fa siamo andati un mese ad Amsterdam tutta la famiglia lavoravamo da lì cioè si lavorava ma quando è nato questo podcast cacchio vedi si chiude il C devo andare a fare il mese sabbatico non è il mese sabbatico perché poi lavori però tu eri andato ad Amsterdam e mi ricordo ancora non su zoom ma su skype abbiamo fatto la chiamata perché non c'era zoom esatto quindi pensa adesso chiudi il cerchio e su zoom chiami qualcun altro dicendo sono un po' stufo di fare il podcast con Fede perché è un po' troppo challenging per la mia vita basta l'audio vabbè seconda domanda cosa faresti se avessi un miliardo di dollari? lì forse iniziere a spostarmi ok viaggiare si si viaggiare un po' di più si si ma alla fine cosa hai bisogno? magari compri una casa un paio di posti viaggi strano che non stai nominando niente al di fuori di te in che senso? con un miliardo di dollari non aiuteresti chiunque? ah scusami ero tarato ok sono la tua peggior coscienza la pace nel mondo cosa devo rispondere? insomma con un miliardo di dollari un po' di cose fighe le potresti fare compro twitter lo aiuteresti perché sta un po' nella merda altra domanda perché ti alzi dal letto la mattina? perché ti alzi dal letto la mattina? non ce l'ho cioè ho delle motivazioni troppe a brevissimo termine ok per per fare quello che devo fare e riuscire a ritagliarmi del tempo anche per quello che ho voglia di fare beh non era male dai che ci stiamo avvicinando ci stiamo avvicinando e questa immagino ho già la risposta ma te la faccio lo stesso ma invito le persone a casa a farsela sta domanda qual è il tuo bene più prezioso? la prima che ti viene in mente è il tempo ma mi sembra la risposta un po' scontata ok devo rispondere io la famiglia e i figli al posto tuo? però scusami è tutto collegato non è che sì qual è il tuo bene più prezioso? sì è la famiglia il tempo perché se poi è la famiglia alla sera non li vedi sei incazzato giusto non fai niente non giochi con tuoi figli puoi anche averceli ma ok mi sono salvato quale talento vorresti avere che non hai? io non so se è un talento ma so cosa rispondere bastardo tu te le sei preparate queste domande un po' ce l'hai già pensato a freddo è difficilissimo no lo so lo so io invito è collegato a quello di prima invito quelli che riescono a creare dei progetti delle cose dove loro non sono indispensabili che danno la niccia e se ne vanno e quella roba va avanti non ce la faccio ok ok io non so se è un talento ma lo considero un talento vorrei essere più coraggioso interessante cioè vorrei avere la capacità di buttarmi di più sulle cose ma ci sto lavorando cioè la cosa che sto scoprendo è che si può diventare più coraggiosi se ci si lavora ed effettivamente si può fare è come l'asticella no che quando vai hai paura dell'acqua e vai un po' più avanti un po' più avanti e dici ma guarda un tero pirla oppure quando vai a sciare no oh mio dio la pista nera poi quando sei piccolo ti buttano giù dalla pista nera e dici ah vabbè no è vero lì bisogna buttarsi forse sì però se ti butti un pochino tutti i giorni anche su piccole cose è incredibile il il potere del come si dice del compound interest una cosa del genere insomma cioè se tu fai piccole cose tutti i giorni questa roba qui si somma e a un certo punto ti accorgi di avercela e non ti eri accorto di avercela ah sì come quegli esercizi che ti dicono attacca bottone con uno sconosciuto no sì i piccoli atti di coraggio che dici va dai vediamo cosa succede chiedi lo sconto sul caffè quelle cose di però funzionano ha parlato Giulio Dori in una puntata davvero bello funzionano ti faccio le ultime due qual è il miglior complimento che tu abbia mai ricevuto mi hanno detto una volta sei una persona che che ha una curiosità genuina che è rara bello bello te dunque bella felpa hai cambiato l'energia della stanza hai cambiato l'energia della stanza cioè nel senso la capacità di entrare in un posto e far star bene le persone questa cosa qui è una bella dote da avere beh però è una cosa a cui io tengo tantissimo perché mi sembra proprio di dare di avere un impatto sulle persone vero e non solo quello diciamo virtuale quella cosa lì ti faccio l'ultimissima mamma mia come vorresti morire se avessi aperto quel canale youtube nel no senza rimpianti ecco ecco visto che sono al giro di boa hai chiuso perfettamente la puntata praticamente senza rimpianti no il se io come potrei rispondere a questa domanda vorrei deciderlo io che non vuol dire che voglio ammazzarmi ma vorrei deciderlo io vuol dire che vorrei sapere quando c'è il momento giusto e vorrei arrivarci è una cosa un po' particolare però vorrei arrivarci ok oh venerdì c'è da mandare la newsletter nel caso programma tutto eh molto figo però se mi permetti andiamo avanti con questa puntata quanto tempo abbiamo perché abbiamo fatto un bel po' no però è interessante a me interessa allora vado avanti con i link praticamente io questa mattina per preparare questa puntata ho unito a tutta una serie di puntini no come spesso si fa per cui tra i vari link che avevo scelto c'era questo che mi sembra perfettamente inserirsi in questo discorso cioè ok fede ci stai dicendo lascia la vita precedente lascia il lavoro buttati ho capito ma come cazzo pago le bollette come ce la faccio eccetera e mi è capitata una di quelle liste che ogni tanto mi fanno bestemmiare ogni tanto mi fanno sorridere ogni tanto mi fanno pensare che sono quelle famose tipo cento modi per arrotondare e qui e qui cosa c'è come è il titolo questo cento migliori idee per le side hustle che è difficile pronunciarle progetti secondari ok esatto allora te ne scorro un po' vediamo siccome ci sono tanta fuffa è qualcosa di interessante perché magari uno dice ok magari non la butto via tutta la mia carriera la mia vita le mie cose però comincio a pensare ad altro quello che facciamo un piedino un piedino ok insegna inglese online non sarà il mio caso ma va bene fermami tu quando trovi qualcosa di interessante sì se ho la competenza ci sono anche cose che conosciamo cioè vendi articoli su etsy vabbè facile scrivi un ebook già un po' più e ancora ancora si può fare che mi ricordo secondo me sì si è legato secondo me a una community eccetera però queste sono quelle cose che tu dicevi prima cioè hai fatto una cosa e vada sola il libro è una di quelle cose se ci pensi ha un impatto magari se non sei jk rowling abbastanza piccolo però comunque ce l'ha vendi workshop online vabbè noi diciamo un po' con l'hab l'abbiamo anche un po' fatto se vuoi no affitta il tuo parcheggio questa è una cosa un po' americana probabilmente però insomma puoi affittare anche il tuo parcheggio affitta una stanza libre airbnb facile rinnovare e rivendere mobili usati mio fratello fa delle cose pazzesche ti ne racconto una incredibile mio fratello gira l'Italia quello che ti ha fatto la standing desk esatto però lui fa queste cose di questo tipo va in giro col furgone a fare manutenzioni in tutto il nord Italia poi magari passa ad un certo punto e va da una vecchietta doveva aggiustargli qualcosa e magari c'è una vecchissima bicicletta agli anni 50 senza ruote a rugginità signora ma gliela butto io gliela butto io o gliela compra la fa diventare un gioiello e lo rivende ma lo fa per passione non per soldi è il Gary V di Pordenone praticamente va nei garage non fa esattamente quello perché lui ci lavora anche sopra però capito chi ce l'ha questa cosa ma posso chiedere una cosa ma c'è il servizio che ti viene a casa a prenderti le robe che vuoi buttare esiste on demand super figo ho fatto un video sulla nostra community è vero su questo argomento qui su DVD ho un'area di DVD che ne faccio adesso al di là del ho dei libri ovviamente non è che i butti però come faccio li porti in biblioteca li regali a qualcuno però io dico proprio le cianfrusaglie uno che mi viene a casa mi piglia su tutti i giochi rotti tutte le robe che è e me lo porti già me lo porti in discarica ti pago esiste sto servizio air air discarica air discarica air bello air discarica ah attenzione 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 allarme side project allora non è figo però anche io in questo momento avrei bisogno di questo diciamo io ho due anni davanti per liberarmi di almeno il 50% delle cose che ho prima di fare un nuovo trasloco per cui non voglio riportarmi tutto indietro voglio liberarmene prima per cui se ci sono all'ascolto persone che sanno di questo tipo di cose fatecelo sapere insegna lezioni di musica vabbè se uno sa suonare va bene diventa un assistente virtuale io ho sempre sognato di provare questi assistenti virtuali andare su fiver eccetera per capire se effettivamente ti svoltano qualcosina o no però io ci ho provato c'è un po' su un task specifico te l'ho detto una volta sì volevo trovare un affitto di una casa stagionale sì ho chiesto uno di queste questi professionisti dire guarda il compito è questo chiama tutte le agenzie mi fai un excel con i prezzi eccetera no ha senso lo immagino su cose un po' più private personali professionali che non è che dici ti do gli accessi all'email fai tu lì è un po' il limite però se riesci a circoscrivere lo sbattimento in modo tale che questa persona possa comprenderlo e muoversi e poi darti un output un excel eccetera funzionano sì sì dovresti farti un elenco delle rotture di balle quello dicevi prima di segnarsi il voto della giornata l'elenco delle rotture di scatole col voto accanto poi te le guardi e dici aspetta qual è che posso sbolognare ci sta ci sta questo punto mi fa molto ridere però io lo chiamerei subito questo tizio chi ti assembla i mobili che è al posto tuo che Ikea te lo fa già questo servizio però magari c'è il tizio che è il nonno in pensione che te lo fa molto meno monetizza il tuo account Instagram diciamo questo ci sta diventa una guida turistica questo è interessante cioè tu metti a disposizione ogni tot ore se staviti in una città figa ma sai che l'altro giorno ho fatto un viaggio in taxi a Roma di un signore che era appena diventato tassinaro ma dai faceva tutt'altro lavorava in un ambito completamente diverso e ti ha portato a Palermo aveva a che fare con la cultura no e se ad un certo punto quel business non ha funzionato più sai che c'è faccio due calcoli è un casino devi comprarti la licenza una roba e gli ho detto ma ti piace? sì faccio le mie ore mi gestisco vabbè comunque farei maio tutto il giorno in macchina no però questo diciamo vedi che lui ha provato una cosa non ci è riuscito ne ha trovata un'altra sì sì non è che è morto certo certo vado veloce perché sennò ci annoiamo però insomma questo mi piace diventa un tutto fare a noleggio io ad esempio non potrei mai farlo perché non so fare un cazzo cosa esatto affitta spazio di archiviazione questo non l'ho mai sentita cioè se tu hai più giga da parte gli affitti cioè mi sembra assurdo vabbè diventa un DJ vendi saponi fatti a mano diventa gente di viaggio modifica i video cioè fai l'editor dei video sì sì vabbè ma lì vai dentro te lo scorri magari trovi sì esatto ce ne sono cento alcuni possono suonare ci fermiamo qui ce ne sono veramente tanti bello bello però insomma oggi io mi sentivo questa cosa qua cioè io vorrei veramente che le persone pensassero seriamente a dare un voto per un mese da 1 a 10 alle loro giornate fino a 7 non accontentatevi cioè se non c'è neanche un 8 e l'8 non può essere in corrispondenza del vostro compleanno ogni quanto l'8 è personale evidentemente per quanto mi riguarda devono essere almeno 2-3 giorni da 8 almeno al mese alla settimana ammazza ma per forza ma cioè voglio dire ma è assurdo che non puntiamo in alto ecco se vuoi la sintesi di tutto questo discorso è questo ci stiamo accontentando ma tutti ma io per primo ci stiamo accontentando cioè la vita è veramente molto più di questo molto più e basta andare fuori a vedere cazzo cioè sono molto convinto di questa cosa e questo mio anno e mezzo di routine ferrea e quotidiana e di lavoro su tutte queste cose cioè sta portando a dei risultati cioè gli 8 aumentano cazzo quante volte ho detto cazzo puoi mettere un po' di bip fede say no more I've got you l'ultimo 8 che hai fatto ma è oggi l'ultimo 8 ah oggi cos'è successo sono stato bene con me stesso ho fatto quel cazzo che volevo tutto il giorno ho letto un bellissimo libro stamattina ho lavorato un'ora e mezza mi sono svegliato alle 4.44 come tutte le mattine mi sono tenuto del tempo per me ho accarezzato i c***i ho pranzato con mia moglie sono andato a buttare l'umido cazzo erano tutte cose belle belle perché ero lì con me stesso e dicevo cazzo sono fortunato cazzo perché non ti si è aperto il sacchettino non mi si è aperto il sacchettino perché l'avevo chiuso molto molto bene cazzo sai come cambiava il voto se nell'ultimo gradino delle scale ti si apriva il sacchettino e dovevi tornare su raccogliere tutto lì era da un 8 a un 4 può essere può essere comunque forse è da 9 oggi ah perché? perché una settimana fa mi è arrivata una raccomandata dell'agenzia delle entrate che mi diceva per la mia società ah ci devi 18.000 euro in 30 giorni io dicevo ma siete pazzi per cui il mio commercialista ha detto ragazzi vi siete sbagliati scappiamo scappiamo e oggi è arrivata la notizia dicendo sì ci siamo sbagliati non ci dovete niente no così velocemente hanno risposto velocemente che settimana quindi quindi 9 9 9 9 vi prego scriveteci se siete in dubbio lo fate già molte volte no? di dice io vi ho ascoltato e quindi sono indeciso allora su me questo è un tema scriveteci che dentro i nostri canali dentro Telegram Circle se ne parlerà per tutta la settimana fateli esplodere questi canali vediamo un po' bene cosa vi ricordiamo vi ricordiamo due cose allora robe nostre prima ricordate di iscrivervi agli appunti che è la nostra newsletter così trovate tutti questi link di cui abbiamo parlato belli ordinati arriva una bella email da Substack due se volete passare al terzo tempo entrare in contatto con altre persone come voi e come noi c'è il nostro canale di Buy Me & Coffee con due abbonamenti da 5 e da 10 euro un sacco di cose in cambio il gruppo Telegram Circle l'archivo dei link la registrazione di link e per chi è a livello più alto una puntata in più al mese esclusiva e poi e poi vi ricordiamo di nuovo Serenis c'è la convenzione con la King Creativity per cui trovate tutto in descrizione basta cliccare lo metteremo anche negli appunti però veramente fidatevi che è una figata una figata vera bene detto questo direi che chiudiamo Nick ciao grazie mille anche a te perché ti abbiamo fatto correre questa volta musica che ci dia entusiasmo e positività vai vediamo che cosa sceglie mamma mia ci stiamo affidando a un ragazzo molto molto giovane Nick sorprendici facci entrare nel tuo mondo di ventenne che noi siamo vecchi quarantenni d'accordo allora direi di chiudere questa puntata con una canzone e una citazione di me stesso prego a volte sentiamo il profondo bisogno di un cambiamento ma la realtà sembra volerci tenere ancorati proprio ciò che più ci appesantisce ma allora cosa dobbiamo fare se la volontà non basta il cambiamento per me nasce proprio da questa domanda goodbye stranger andatela a ascoltare up before the dawn and I really have enjoyed my stay but I must be moving on like a king without a castle